Quando la peste ha seminato morte e disperazione in queste terre, la nostra gente si è rivolta a Maria, Madonna della Salute. La peste è cessata e la vita ha ripreso. In tante difficoltà quotidiane, tanti tra noi vengono a supplicare la Madonna della Salute, certi di essere ascoltati. Eccoci qui oggi. Una nuova peste ci colpisce, il coronavirus. Eccoci qui a invocare Maria, la sua materna intercessione, per sostenere tutti quelli che lottano contro questo male, per essere forti noi tutti in questo tempo difficile, per essere liberati da questa epidemia e ritrovare salute e serenità. La supplica verrà fatta a nome di tutti noi dal Decano, Don Paolo Zuttion. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella. fra le tempeste, fra le tempeste, deguida il cuore, di chi ti chiama, stella d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, immacolata prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, immacolata prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore e Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora, oh Madre, ti invochiamo. Adesso non possiamo neanche andare a Messa e spesso siamo disorientati, perché il Papa, i Vescovi e in particolare il Vescovo Carlo sappiano guidarci con fede e lungimiranza e che noi li seguiamo di buon grado. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Vediamo tutta la difficoltà che anche i nostri politici hanno per prendere delle decisioni e possiamo capire che non sia per niente facile. Per tutte le autorità che a vari livelli devono decidere, perché siano sagge e all'altezza della situazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi molti temono per il lavoro, perché si possa continuare o ritornare a lavorare in sicurezza e serenità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso che dobbiamo stare a casa, alcuni non sanno starci. Nascono tensioni, dissidi in famiglia, perché ci armiamo di santa pazienza, di comprensione, accettando positivamente questa situazione per riscoprirci e ritessere le nostre relazioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il personale sanitario, medici, infermieri, è in grande difficoltà. Ce ne sono tanti veramente bravi. Proteggili dal contagio, da loro forza, competenza e lucidità nel curare. Ave o Maria, piena di grazia, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Questa malattia ci mette paura. Non c'è per ora una medicina giusta. Perché i ricercatori la trovino quanto prima. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vediamo cosa devono fare in questo tempo le forze dell'ordine e di pronto intervento. Poliziotti, carabinieri, vigili, pompieri, eccetera. Quante difficoltà. Veglia su di loro e accompagna la loro azione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. La vita è difficile per alcuni, per varie ragioni, come la povertà o la vecchiaia. Per i volontari che li assistono, perché lo facciano con generosità e amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Quanti si sono già ammalati, quanti soffrono nel loro corpo, quanti soffrono perché soli in casa o isolati dagli altri, perché ritrovino la salute e l'affetto dei loro cari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Alcuni non ce la fanno più. Sono in agonia. perché non abbiano a soffrire troppo e vivano con fede questo passaggio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Alcuni non ce l'hanno fatta e sono morti perché trovino il riposo in cui hanno creduto e sperato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna della salute, tu che sostieni i deboli e consoli gli afflitti, proteggi chi ti invoca con fede e allontana le calamità. Vergine Santa, non dimenticare gli angosciati della terra. Volgi il tuo sguardo di bontà su quanti sono provati dal dolore, su quanti lottano per sopravvivere. Soccorri quanti vivono la separazione, quanti soffrono la solitudine del cuore. O Madre misericordiosa, tu che sei già intervenuta per le nostre genti, vincendo il male della peste, vieni anche oggi in nostro aiuto per liberarci da questa epidemia e per vincere il male dell'indifferenza, delle ingiustizie, della esasperata conflittualità. dell'illusione di poter vivere senza Dio. Vergine Sapiente, risveglia le energie sane della nostra gente. Consiglia a chi ha responsabilità pubbliche. Ravviva l'unione delle famiglie. Donaci lo spirito dell'ascolto e del dialogo. Rendici attenti alle necessità dei sofferenti, dei poveri e degli emarginati. Aiuto dei cristiani. Sorreggi coloro che vacillano nella loro fede. Illumina coloro che dubitano. Consola coloro che piangono. Ascolta coloro che pregano. Per tutti ottieni la speranza e la pace. Madre di Cristo, intercedi per noi presso il tuo Figlio. Perché perdoni le nostre infedeltà, allontani ogni discordia, ed esti in noi la gioia di amarci come fratelli. O Madre di Salvezza, fa che tutti conoscano l'unico e vero Salvatore, Gesù Cristo Signore. Fa che nel mondo intero regni la pace nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore. Madonna della salute, prega per noi e fa che nella nostra vita imitiamo sempre Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. E per intercessione di Maria, Madonna della salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Salve Regina, Mater Misericordia, vita dolce do, espes nostra salve. A te clamamos, exudes finire, a te suspiramos, gementes et flentes, in ag lacrimarum valde. Eia, Ergo, Advocata nostra, in los tuos misericordes oculos a nos convertem. Ed Iesum benedicum fructum ventris tui, nobis posto che exilium ostendem. O clement, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amén. Amén. Amén.